Salve, ho avuto l'occasione, la fortuna, la possibilità di essere scelto da parte di Alienware e Icon per partecipare a questo evento, si chiama Alienware Community Showdown. È molto semplice e lineare, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento di questo video che vi porta direttamente a questa pagina e come funziona. Attualmente l'evento si divide in due fasi, la prima fase tra il 27 aprile e il 17 maggio e la seconda fase tra il 25 maggio e il 9 giugno. Voi, cliccando questo pulsante Join the Showdown, vi permette di scaricare un'applicazione chiamata Overwolf, dove dovete scaricare poi l'applicazione Icon o a volte la scarica anche da sola, è un po' strano come sistema, ma il succo è questo. Nel momento in cui voi la scaricate, il sistema comincia a registrare effettivamente quando giocate a League of Legends. È super leggero e quindi non vi dovrebbe inficciare sulle vostre performance del computer, ma che cosa fa effettivamente? Il sistema prende e comincia a registrare quando fate delle kill, quando fate degli assist e quando effettivamente vincete una partita. Quando vede effettivamente queste cose succedere, immediatamente ti somma i punti. Ma dove li somma? Quando tu ti iscrivi a questa applicazione, quando tu entri dentro con il tuo account di Twitch, ti dice seleziona una community. Se selezioni la mia community, tutti i punti che tu farai entreranno nella mia community. E quindi se noi lavoriamo tutti insieme, ci facciamo un mazzo quadro, semplicemente giocando a League of Legends, e dobbiamo solo giocare, non è che dobbiamo fare robe strane. Si installa una volta e poi sta lì. Tranquilla, comoda, l'applicazione non fa niente, non devi fare nulla. Devi solo giocare a League of Legends, vincere, trovare kill, assist e goderti effettivamente il gioco. Se noi come community tutto insieme riusciamo a scalare la classifica di tutti gli streamer e fare abbastanza punti, che cosa succede? Vinciamo degli RP e quelli che contribuiscono di più, cioè quello che contribuisce di più, può vincere anche un computer se arriviamo nelle prime tre posizioni. Una roba fighissima che secondo me, almeno, visto che comunque alla fine giocare a League of Legends lo facciamo tutti quanti, se si può vincere anche RP, e per chi è più fortunato e forte, anche un computer, benvenga, signore e signori, benvenga. Quindi, cosa dovete fare? Partecipare, giocando. Come si partecipa? Si clicca questo pulsante, ti fa partire direttamente un file da installare e scaricare, voi andate effettivamente ad installarlo, e dovrebbe apparirvi questa schermata. Voi lo fate partire, next. A volte è un po' strano, perché a volte vi installa direttamente anche Icon, e a volte no. Quindi un po' eccentrico il tutto. Lo installate, vi fa fare tutta questa schermata, solita di caricamento. Arrivo, eh. Qui adesso, dopo aver fatto tutte le sue installazioni, che cosa fa? Lo dovete lanciare la prima volta, perché questo qua, il Game Summary, dovete lanciarlo almeno la prima volta. Una volta che avete fatto questo, adesso vi aprirà questa schermata, voi direte, sì, 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 sei bravissimo e fortissimo. Appena decide di caricarsi. Perfetto. Adesso vi dice, welcome to Game Summary, get started, selezioni League of Legends, next, 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 e qua lo chiudete. Andate a cliccare due volte su Overwolf, ve lo farà lanciare, e vi dice, welcome to Overwolf. Una volta fatto questo, vi apparirà questa schermata, di nuovo, next, 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 e via così. Apps for more, apps and more for League of Legends. E va installata questa applicazione qui, Icon, si installa, si logga con Google, Facebook o Discord, dipendentemente dalla vostra preferenza. Io lo gogo con Google, perché sono già loggato. E adesso vi fa vedere, io sono loggato, e infatti c'è ancora il vecchio logo. E qua, adesso, stai installando l'applicazione, e la potete lanciare, vi appare qua a sinistra. Permetti, chiudi qua, vi appare qua a sinistra l'applicazione Icon. La clicchi, e ti appare effettivamente questo Alienware Community Showdown. Qua dovete loggare con il vostro account di Twitch, visto che io sono già loggato con il mio account di streamer, utilizzo quello del mio bot per farvi vedere. Adesso, io logggo, do il permesso, autorizzo Icon ad avere effettivamente i miei dati, e ora cosa succede? Verifica il username e email, vi manderà un'email che dovete confermare effettivamente di essere voi. Qua, avatar next, e qua si può scegliere una community. E qua, scrivendo Terenas, vi appare la community Terenas. Confermi. E adesso, semplicemente, basta giocare. Niente di complicato, è super semplice. Da qua in poi, premendo qua Community, potete effettivamente vedere tutte le cose, ci sono delle sfide specifiche, il vostro rank a livello di punti, qua potete vedere le challenge, le kill, gli assist, le win, quanti punti ti danno effettivamente. Tutto qua, è molto semplice, niente di complicato. Qua si può vedere la leaderboard di tutte le persone che fanno parte effettivamente della mia community. Adesso qualcuno c'è già entrato, sneaky sneaky, perché l'avevo attivato ieri sera. Semplice. Da qua in poi, dobbiamo semplicemente accumulare punti insieme. Se arriviamo in cima, vinciamo. Vogliamo vedere effettivamente come siamo messi a livello di classifica? Qua, purtroppo, ancora non ce la fa vedere, la leaderboard, mannaggia. Sarebbe figo poterla vedere, ma non è ancora disponibile. E questo è quanto. Minimizzi l'applicazione e giochi a League of Legends. Signori, ci vediamo online. Anche direttamente su Twitch ci sarà un overlay in streaming in cui potete capire effettivamente partecipare e vi spiega tutto quanto l'applicazione. Già lì potete di nuovo installare tutto quanto, entrare nella community. È molto semplice. Unitevi e proviamo a vincere un po' di RP insieme. Che ne dite? Bella.